Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo con un bel video che è da tanto che non lo faccio, però ho piacere di rispondere a due ragazze Katia e Silvia. Katia mi scrive dicendo di essere insoddisfatta del suo attuale lavoro, sentirsi frustrata, stanca e spesso di umore depresso. Anche Silvia mi scrive dicendo di sentire questa eterna insoddisfazione che la porta a non avere certezze che cosa vuole nella vita. Lei inizia e lascia a metà praticamente tutte le attività intraprese perché nessuna le dà entusiasmo così tanto da proseguirla. Allora, le due ragazze mi chiedono dei consigli che cercherò di dare. Ci proviamo, va bene? Allora Katia e Silvia, l'insoddisfazione, sappiamo, si manifesta attraverso una serie di sindomi ansiose che non fanno molto bene alla persona, non la fanno vivere serene. C'è l'umore depressa, c'è la stanchezza, demoralizzazione, ci sono diversi aspetti. Poi tutto questo fa sì anche che uno ha poi delle difficoltà con le altre persone nelle relazioni interpersonali, con i propri familiari, con il datore di lavoro, con gli amici, con il partner. Insomma, l'insoddisfazione è il segnale che avvisa la persona di essere allontanata dal proprio io, dalla propria interiorità e dalla propria essenza. Questa va ricercata. Cioè, bisogna riprendere, dobbiamo riprendere questo contatto con noi stessi. Vediamo un po' che consiglio posso dare. Innanzitutto è un segnale che non va sottovalutato. Se c'è questa insoddisfazione, in fondo è positivo, perché mi segnala, ops, c'è qualcosa che non funziona, perciò va bene. Allora, innanzitutto bisognerebbe cercare di riscoprire il proprio io, la propria interiorità, il proprio insieme, il proprio essenza. Cioè, io chi sono? Che cosa voglio? Dove voglio andare? E per poterlo fare, innanzitutto, dobbiamo non farci prendere dai pregiudizi di altri e farci condizionare sempre da altri. Questo non funziona per noi, perché, come ho detto, ognuno di noi è unico e irripetibile. Perciò ognuno deve trovare la propria strada. Le vostre scelte non possono essere uniformate quelle degli altri, perché ognuno è soddisfatto o meno con certe cose e non con altre. Perciò, prossimo consiglio, trova la tua strada senza sentirti in colpa. I genitori vogliono che si studia una certa cosa. E se non è per te, meglio prendere un'altra strada. Perché, e forse mi ripeto, però è importante, la tua strada personale è unica, diversa dagli altri. Molti si sentono appagati dal lavoro stabile, altri invece no. Per esempio, conosco una ragazza che addirittura aveva un bellissimo tempo indeterminato pubblico. Wow! Dopo due anni è entrata in un'insoddisfazione e ha dovuto cambiare. Ovviamente ha cambiato piano piano, prima cercandosi un'alternativa, poi andando a part time e così via. Un'altra cosa importante, mettiti in moto, trova nuovi stimoli e non lamentarti. Quando sarai più vicino alla tua interiorità, alla tua essenza, avrai più chiaro quello che vuoi, anche se non saprai come raggiungerlo. Però, tanto, mettiti in azione. È la strada più adeguata. L'esperienza ti farà poi comprendere qual è veramente la tua direzione. Poi, mettersi in moto, ti allontana dalla tendenza di lamentarti, che solitamente lo fanno le persone insoddisfatte. Però, lamentarsi, rimuginare, non funziona. Cioè, non funziona per me, non funziona per te Silvia, non funziona per te Katia. No, non funziona. Perché mi fa sempre stare peggio. Allora, altro consiglio, inquadrare le proprie aspettative. Già dopo le prime esperienze che uno fa, si può inquadrare quello che voglio. È importante portarsi degli obiettivi di facile raggiungimento. Allora, io dico sempre così. Prima bisogna un po' sperimentarsi. Non lo so, esempio. Ti piace lavorare con i bambini? Allora, prima devi fare un po' la babysitter. Magari devi organizzare delle feste per bambini. Se vedi che ti piace, allora deve avere anche un obiettivo a lungo termine. Vuol dire, per poter lavorare con i bambini in maniera professionale, deve avere un titolo. Oggi sono titoli universitari. Allora, bisogna acquisirle. E questo, allora, una cosa è l'obiettivo a lunga scadenza, una cosa è l'obiettivo a breve scadenza. Intanto organizzo, faccio da babysitter, eccetera. Però mi scrivo anche l'università, comincio a studiare. Poi, essere felici dei propri obiettivi raggiunti. Questo è un altro punto molto importante. Allora, hai organizzato, faccio sempre l'ipotesi ovviamente, della festa dei bambini. Una bella festa dei bambini. I bambini erano soddisfatti. È andato tutto liscio. I genitori erano contenti di averti presa come organizzatrice di un evento per bambini. Allora, questo è un piacere. E te lo puoi vivere. Non troppo a lungo. Una giornata, due, dopo ti devi rimettere in moto. Perché non puoi fermarti su questo successo. Allora dici, ok, allora ne organizza altri. Lo farò in maniera ancora diversa. Ecco, comunque, essere felice dell'obiettivo può seguire. Un'altra cosa potente è vivere nel presente. Anche se tu ti potresti inscrivere all'università, non ti vedere adesso come insegnante, cioè non ti immaginare di essere felice solo in quel momento. No, sei contenta di essere soddisfatta adesso, in questo momento, di aver avuto successo con questa festa dei bambini. Ok, oppure che oggi è una bella giornata, allora si può andare in piscina. Adesso io parlo, siamo in estate. Ok? Poi, anche prendi lezioni dei tuoi fallimenti. Una festa potrebbe non essere andato bene? Cosa ho sbagliato? Cerca di capire. Non so, magari non hai previsto che era tanto caldo, oppure che potesse piovere. Allora, il tutto non è andato liscio. Per esempio, se è tanto caldo, devi provvedere che c'è l'ombra, che c'è l'acqua, che tutti sono soddisfatti, eccetera. Perché se tu impari dai piccoli errori che fai, in futuro le cose vanno sempre meglio. Se poi, per concludere, tutti questi consigli che ti ho dato non funzionano. Comunque, rivolgiti a un professionista che ti aiuterà di sentirti più soddisfatto e trovare la tua strada. Va bene? Allora, Katia, Silvia, vi auguro veramente tante buone cose per la vostra vita e buona giornata. Ciao ragazze! Grazie a tutti!